Una gara... insomma vivi una gara di cappelli a scuola? Sì, tecnica, sì. Com'è andata? Eh? Com'è andata? Abbiamo vinto. Hai fatto qualcosa di sobrio? Eh? Sì, molto. Io e Benedetta abbiamo fatto il cappello insieme e ci hanno fatto una foto da sole perché noi avevamo le rugine. Veramente una cosetta sobria? Eh vabbè, però a stile fa effetto. Fa effetto? Ha fatto l'effetto giusto? Eh, c'è a stile. Avete vinto? Eh sì. Secondo te sto male? Eh, con questo cappello no. Come l'abbiamo chiamato? Eh? Allora, oddio, guarda che lui ce l'ha che fa qui. Turbo cap, turbo hot, turbo hat, turbo schnauz. Comunque, quando uno vince, vi va la vita. Tutta la vita. Bella per te. Tra vincere i secondi e meglio vinci. Sì. Torcetti semplici, innovativi. Veramente terrificanti. Neanche al circo Orfei. Schnauz! Orfei. Più. Grazie.